Nello scorso episodio siamo andati a vedere lo spettacolo sulla spadaccina, veramente bello Stella, che sta succedendo? Lo capirai dopo E oggi andremo qui in questo secondo spettacolo per la tecnica Ninjitsu, fiume in piena Ora, per ninjitsu mi ricordo tantissimo Ninjago, ma io adoro Naruto Fatemelo sapere nei commenti, cosa preferite voi, quale fra le due serie, anche se è completamente diverso Detto ciò, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video Let's go! Si inizia! Peach time Ogni classica storia di ninja comincia in un villaggio È meglio non andare da quella parte? Beh, presumo anch'io che è meglio non andare da quella parte Detto ciò, siamo attenti Hanno occupato il nostro villaggio Ci dovrebbe essere un sentiero nascosto La strada per la dimora è bloccata Ok, ricordiamoci il bambù che ci servirà Detto ciò, ci stanno dei fiori di ciglia... degli alberi di ciglia già non sbocciati Quindi presumo che sia qui il passaggio Let's go Vai Prendiamoci le monete prima che spariscono Quindi Let's go! Proprio in mezzo Perfetto! E qui il villaggio ha bisogno di te Anche tu sei un ninja? Come hai fatto? Segreto professionale Tecnica ninja di quarto livello Ok Sei passata dal pozzo troppo forte Questo sentiero porta alla dimora del saggio Vai, andiamo Eh, bambù Da questa parte! Non ci si può far strada con la sola forza Ok, quindi Uh, non farti scoprire Ok, missione del giorno non farci scoprire Il mio allenamento non è servito a niente Ok Facciamo risplendere Comunque tutti i nemici sono manovrati da delle fila Chi sei tu? Peach Ecco chi sono io Let's go Vediamo cosa ci dice questo teatro Se il saggio segreto esiste davvero Eh? Ok Se il passaggio Forse è la Bu, non lo so che dice Detto ciò Presumo che bisogna andare da questa parte Dobbiamo sicuramente stare molto Trovato Ok Come hai fatto a trovare questo posto? Sei tu il ninja della leggenda? Probabile Probabile Teatri Probabile Eh, prendiamo tutte le monete perché ci serviranno Ok Probabilmente Soltanto quando si è trasformati Ci si può mettere in posa Come hai fatto ad arrivare fino a qui? Sei come il ninja della leggenda E let's go Ok Va bene Mmm Posso mettermi in posa con lui? No Quindi si confermo Soltanto quando si è trasformati Ci si può mettere in posa E' giunto il momento Che tutti aspettavamo Ovvero La trasformazione In Peach Ninja Probabilmente L'intra è sempre la stessa Quindi Ok Ma adesso Viene il bello Perché lei si trasforma A fiori di cilieggio Peach Oh La mia principessa L'adoro Peach Ninja Ok Wow Ok Eh ma Ci stanno i comandi già? Comandi Premia con il giusto tempismo Per saltare e rimbalzare Tra due pareti Ok Voglio vedere se Bellissimo Ok quindi Let's go Saltiamo 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 Ok Andiamo avanti Eh Tu che ci dici? Sei dei nostri? Ogni Aiuto è ben accetto Qui Posiamo Quindi Let's go Dai C'erano questi due Lanterne Che si dovevano Accendere No? Tu che ci dici? Nasconditi nell'erba Comandi Nasconditi nell'erba Per avvicinarti Di soppiatto ai nemici E poi colpisci con B Ok Let's go Wow Bellissimo Bellissimo E ab Tecnica ninja No bellissimo Konomaru mi ricordo Che velocità Le tecniche di Naruto Per intenderci Niente di strano oggi Ok Ok Devo stare attento Sicuramente non mi devo far scoprire Quindi Se il ninja della leggenda fosse qui Eccomi Fareste una cosa? Ok Eh ma Presumo Che devo fare così Ok Perfetto Mamma mia Non sono anche io Che noia oggi Eh Io non mi annoio Di certo Quindi let's go Ok Passaggio segreto Trovato Andiamo Ancora Non abbiamo trovato Il fiocco Però Ok Chissà dov'è Ok È Finito Ritorniamo Nel set Principale Allora Dobbiamo stare Molto attenti Quindi Perfetto Eh Sicuramente Devo stare Lì Quindi Aspetta un attimo Che passi E vado Ok Comunque È veramente ridicola Questa cosa Uh Uh Ti ho trovato Come faccio Ok No Mannaggia A me Ok Posso Saltare di qua E prendere questo Ok Tutti i trucchi E i segreti Solamente qui Che abilità Ok Vabbè Non ci serve Ok Dobbiamo sicuramente Stare attenti ora Ha Siete il nostro potere Ciao Ehm Ciao Perfetto Quindi Vediamo allora Che ci dicono Più avanti È pieno di nemici Attenta Ok Starò attenta Meno male Che me l'avete detto Ok Facciamo così Rimetizziamoci Ok Perfetto Ah Potevo rischiare Ok Let's go Perfetto Eh Posso mettermi in posa No Ancora no Qui Ok Però è strano Qui Devo mettermi in posa Qui Ok Andiamo avanti Eh Dobbiamo stare Prevalentemente Attenti Non possiamo Oltrepassare Quella parete Ok Una parete Invisibile Ok Let's go Cosa c'è qui Delle monete Semplicemente Va bene Ci sta Ci sta Ci sta Ok Eh ma Ok Devo stare più attento Fiocco Ok Oh mi hai trovato Ok 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 Per ora Non Ci siamo mai Fatti scoprire Molto Probabilmente Let's go Vai Ok 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 Abbiamo liberato Il capo Del villaggio Quindi Sì Ok Let's go Non abbassare La guardia Il nemico Il nemico Vuole i nostri Rotoli Ok Ovviamente Le tecniche Ninja di Naruto Ah I rotoli Sono nelle mie mani E lì devo prendere Vero Non farlo scappare Un attimo Ok Presumo Che Devo andare qui Prima di tutto Ah Non mi devo far Sfuggire Nessuna gemma Quindi Ok Ok Perfetto Andiamo via Chissà se Nell'acqua C'è qualcosa Devo scoprirlo Per il bene Della scienza E per noi In generale Ok Non c'è niente Possiamo andare Vai Pitch Let's go Ok Non ti lascerò Sfuggire Ok Eh ma è una ranna È una Oh Oh Attenzione Ok Devo Completà Ma è bellissimo Non potevo Fermarmi pure Ok Vai Bisogna Stare Attenti A tutto Quanto No 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 Non ho salvato il teatrì Ah Ok Ti prego Let's go Ok Posso rifarla? Eh Gentilmente Cosa sta succedendo? Ok Ok Resumo che Devo fare Ok Vai Vai Mantieni In alto Tutto Quanto Perché Già che non ho Let's go Vai Allora Già che non ho salvato Un teatrì Molto probabilmente Eh infatti Devo rifarlo Ci vediamo dopo Ok Bellissimo Andiamo Nuovo fiocco per vestito Ok Ok Abbiamo completato Ma non l'abbiamo completato Al 100% Quindi Riandiamo un attimo Dentro Ok Il simbolo nel fogliere Ok Si parte dall'inseguimento Devo stare Molto attento Ora Quindi Let's go Ah Vai 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 Perfetto Sto facendo tutto Perfetto Per ora Quindi buono Quindi devo stare Molto attento Posso aspettare Tanto Quindi Ok Ok Let's go Ok Vai Liberato Ok E finalmente Ho ricevuto Ti sono debitore L'ultimo Ah Devo stare pure attento Qui Oh Ok Vai 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 E adesso La tecnica Suprema Del masso Roccioso Ok Ok Vai Ce l'ho Ce l'ho fatta Le tecniche supreme Sono state Ristabilite E abbiamo Completato al 100% Anche questo Livello Mamma mia Quanto sei Bella Ok Detto ciò Abbiamo Completato Tutto Quanto Noi ci vediamo Nel prossimo Episodio Un attimo Che controllo Anche il negozio Per sicurezza Quindi Noi abbiamo Finito Andiamo Verso il negozio Per vedere Se ci stanno Nuove Custom Però Presumo Di sì No Però Possiamo Fare Questo Ok Detto ciò Nel prossimo Episodio Andiamo A fare Questo Spettacolo Siete pronti Let's go